La dignità dell'uomo viene prima del suo essere riconosciuta da qualcuno. Non è data e non è concessa. Una persona può essere irregolare secondo la legge, ma la sua dignità è sempre autentica. Da questo concetto, a preso le mosse e il convegno, nessuno è illegale, promosso dalla Caritas diocesana. Sul tavolo un confronto tra due testi. Il primo è il decreto sicurezza del governo italiano, considerato dai relatori un documento confuso, portatore di insicurezza e paura. E la paura è molto facile da governare da chi vuole strumentalizzarla per i propri fini. Non bisogna avere paura, perché se abbiamo paura di quello che sta accadendo ci chiudiamo e se ci chiudiamo deleghiamo di fatto il nostro potere istituente ad altri che lo utilizzano al di fuori del controllo. Io credo che l'Italia oggi abbia bisogno innanzitutto di riflettere, di ragionare e di riprendere quella cosa che è radicata nel suo spirito e nel suo DNA, che è l'apertura, la curiosità verso l'altro che non abbiamo più e che invece può diventare il motore di nuovo cambiamento, nuovo sviluppo, nuova generazione di valore. Il secondo documento è la fratellanza umana, un testo firmato ad Abu Dhabi, dal Papa e dal grande imam di Al-Azhar, dove si mette in luce il progetto comune di entrambe le religioni, quello di camminare insieme. Parte da questa consapevolezza che la fede dà a entrambi, che c'è un cammino comune e un progetto comune e un destino comune su cui si può lavorare imparando a diventare fratelli facendo strada insieme. In diocesi il progetto di accoglienza è seguito dal villaggio del ragazzo con fatiche e successi. Tuttavia il compito della Chiesa non vuole essere soltanto sociale ma educativo, diffondere cioè la cultura dell'accoglienza. Il nostro è un servizio sociale certo ma che ha una ricaduta nella comunità, cambia la mentalità, cambia la cultura. Una comunità autentica, una comunità accogliente perché ha imparato dall'accoglienza a essere accogliente.